si parte appena iniziata Mawed Ischiai dell'Ischia attenzione subito all'Ischia con la traversa colpita intonso a lui la fascia di capitano attenzione al Cicentrale colpo di testa pallone di ora si allunga il pallone chiaiese va sul fondo il cross passa Invernini poi ha provato a ributtarla in mezzo era buona l'idea attenzione ancora una volta ai padroni di casa pericolosa l'azione con Neboso il tiro alto e arriva il duplice fischio dell'arbitro finisce qui il primo tempo zero a zero tra Mawed con il secondo tempo l'Ischia deve dimostrarsi matura ora protesta la Mawed per un fallo di mano andare al cross eccolo non arriva di testa esposito attenzione a Landieri che prova addirittura il tiro direttamente in porta finisce qui arriva il triplice fischio dell'arbitro termina zero a zero Mawed ischia... Grazie a tutti.